buongiorno a tutti mi presento sono corrado dalla provincia di monza e questo è il mio piccolo diciamo allevamento io ho delle coppie di spagnoli poi qui c'è una coppia di cardinalini sono cerco di allevare in gabbie da 90 o come questa una due e tre sono gabbie da 55 unite che li ho modificate in modo che stanno più larghi possibili allora qui c'è una coppia di cardinalini qui un'altra coppia di cardinalini qui abbiamo una coppia di spagnoli lei ha già fatto il nido vediamo se mi combina qualcosa altra coppia di spagnoli anche loro hanno già fatto il nido qui c'è una coppia che allora l'è un po conciatina l'ho recuperata da un da un venditore mi faceva pena l'ho portata a casa e vabbè vediamo se riusciamo a recuperarla poi dopo appena mi si libera una gabbia da 90 la sto aspettando di metto anche loro nella 90 qui un'altra coppia di spagnoletti e qui un'altra coppia di spagnoli anche loro allora diciamo che questa è la parte dove al riproduco la stagione riproduttiva in questo locale dopodiché a fine estate diciamo quando sono tutti svezzati li metto tutti in questa voliera tutti insieme dove adesso ho una coppia di vabbè non si vede di cardellini quelli europei sperando che quest'anno ne fanno qualcosa visto che l'anno scorso in una gabbia da 90 non mi hanno fatto nulla niente poi questo è quanto il mio allevamento è questo finito di fare le pulizie cambiato tutti acqua carta mangiare è andato la mela settimanale a tutti quanti e speriamo bene un saluto ciao a tutti ciao ciao